Scatman's World Vai ragazzi, oddio, siamo contro la Serie A italiana e contro... Cosa, la, vi spasiano, vi... Cosa, l'ho già giocato contro questo, il bello è che ho giocato ieri, quindi... Ecco, c'è che a quest'ora si collega sempre, ok. Comunque, vabbè, 13 punti abbiamo, in 5 partite... Siamo a meno 5 dalla promozione, che ho, speriamo, vabbè, pressing, vai. Vespinelli, eccolo qua, vi spasiano. Vai. Siamo sempre con la Serie A sceva. Eh, se non vengo promosso adesso, veramente... Rossi! Mamma mia. Cioè, se non riesco a conquistare la promozione, con 4 vittorie nelle prime 4 partite, ragazzi... Più il pareggio, vabbè. Comunque, 13 punti, 5 partite, veramente, devo nascondermi, eh. È l'occasione della vita. Andare in staccazzo le divisioni, guà. Il quadro! Pippo! Questo c'è fallo, ma dai! Cominciano i furti? Vespinelli. Siamo con una Serie A italiana buona, ma non incredibile, è dormita. Offside, però. Guarda Marietto Gomez. Vai, campa. No, troppo forte. Noi, ragazzi, crediamoci. Un bravito così scarso nei passaggi. Cioè, non era così scarso. Cioè, non era forte, però... Aia. Gol. Esorcizziamo, esorcizziamo. Si fa fatica, ragazzi. Dai, Rossi, anche te, fermo, dai. Niente, niente. Unito di secondo tempo brutto come l'ultima partita. Cos'era? Non era fuori gioco? Daaaah! Guarda qua, l'incoglioniti proprio. Ancora angolo, però... Sta giocando meglio, so stronzo. Beh, bufano, butta lassù. Eh, se Sheva non è in forma... Facciamo sempre fatica. Non ha segnato l'ultima partita e potrebbe non segnare neanche in questa. Veramente... Un evento, eh, per Andrì. Sembra quasi impossibile. No, qua ha fatto il blocco, porca troia. Eh, da solo, da solo. Graziati, poi il regalo pala, son coi, son coi... Mamma mia, qua mi ha graziato tre volte. E' una sofferenza infinita. Non cerchiamo di fare almeno un punto, però adesso sto rischiando veramente... Deve arrivare per le ultime partite per la promozione, ma porca di quella porca. Vai, Rossi. Vai, Rossi. No, Rossi, no. Prendiamola, bravo, Pog. No, no, sti passaggi. Pog va! Prova il tiro, mamma mia! Andrì, la mette in mezzo. Fuori. Fuori gioco, forse buono, capito. No, la prendono, la prendono mai di testa in queste circostanze di solito, non ci credo. Ai, 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 gol, gol, questo è gol. Ragazzi, ragazzi, non so cosa dire. Stramerito di perdere, ma siamo ancora a galla. Ho avuto occasioni anch'io, però al secondo tempo è stato solo, solo Marco dell'avversario. Bisogna essere sinceri. Questo Vespinelli qua di merda. Fuori gioco, fuori gioco. Solo che... Dopo quattro belle vittorie, arrivano i problemucci per il Cube. Dai, 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 la beffa! Quadrato, quadrato! Non ci credo, non ci credo. Bene, questo di prima, pallonetto di prima. Vai, Pippo. Eh, Pippo, niente. Le mie leggende non stanno giocando, quello è il problema grosso. Butta lassù. Pippo. Ottantaduesimo. Ammonito. Pogba. Ammonito. Paolino. Pogba. Stiamo attenti che è anche un punto, però è meglio di niente. Andri. Uh. Bravo, Esha. Dai, un buco, io ci voglio provare. Dai, 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 dai. Eh, troppo. Dai, uno dei nostri, dai. Dai, dai, uno dei nostri. Eh, niente, niente. No, quadrato, no. Sti errori, però. Pippo. Pippo disastroso fino adesso. Sceva uguale, anche lui assente. Eh, qua si prospetta il secondo pareggio consecutivo, però adesso mancano quattro partite e la pressione aumenta. Però comunque mancano sempre... Devo fare comunque due partite. Un pareggio, cioè... Dai, quadro, bravo. Bravo, quadro. Dai, il culo finale! Dai, prendila di testa, ti prego. Finisce 0-0, ragazzi. Mancano quattro partite. Se vediamo la classifica... Ma è veramente, veramente dura. Adesso devo fare... Le partite con il Belgio e... E poi di nuovo con i dominatori, ma vediamo. Cioè, con la serie asceva. Però ragazzi, veramente le corri sono messe, non dico male, però... Dovevo fare quattro punti in quattro partite. Quindi anche quattro pareggi, volendo, però... Se vinciamo, meglio. Ok, vediamo la classifica. 14-5, questo è un pareggio pesantissimo, non lo meritavo, onestamente. Eh, siamo là, ragazzi, siamo là... Dai, cavolo, cerchiamo di portare a casa questa puttana di promozione. Ciao! Cummenda veneziano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Lo youtubers italiano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Lo youtubers italiano